Sono stati presentati sabato mattina alla Memo di Fano gli eventi che renderanno la rocca malatestiana protagonista dell'estate fanese. Un ricco programma di ben 32 titoli per tre mesi in interrotti di spettacoli, in programma tra concerti, conferenze e mostre, che Massimo Pugliani, direttore artistico, ha suddiviso in quattro rassegne. Comizi d'amore con sette concerti dedicati ai cantautori, amore, la rassegna per i giovani, momenti di arte e spazio ai comici nei mesi di luglio e agosto. Per quanto riguarda la stagione estiva, la rocca malatestiana potrebbe essere il luogo dove ci si incontra, dove si vede, ma soprattutto dove ci sono relazioni. Ecco, chiamiamole se vuoi emozioni. Perché ho detto questa parola? Perché in effetti la prima rassegna, comizi d'amore, che sono appunto concerti e racconti, è dedicata a Mogol Battisti, con la presenza del grande Mogol, il 26 giugno. Poi ci sarà un rapporto con Pino Daniele e Massimo Truisi. Poi ci sarà il rapporto con Dalla, perché abbiamo quasi un appuntamento fisso alla rocca malatestiana, con la band Piazza Grande di Stefano Fucili, tre grandi mostre fatte proprio con lo specifico di allestimento alla rocca e daremo spazio a Luciano Posineri, a Manuela Orciari e soprattutto a Ridolfi, quando a un certo momento faremo anche un concerto con Elisa Ridolfi. Il programma è consultabile sul sito internet? Sicuramente avremo la possibilità di interfacciarsi sui social e soprattutto sul sito di riferimento della rocca, basta appunto giocare con Google e si trova tutto. In questi cinque anni di già passata gestione abbiamo avuto la fortuna, ma anche il grande lavoro, di poter proporre circa 60 eventi l'anno, accogliere non so quante migliaia di persone, organizzare una trentina di mostre, avere la possibilità di partecipare e far collaborare insieme a noi ogni anno almeno 15-20 associazioni e soggetti del territorio, quindi per noi è un grande orgoglio e ci dà questa molta soddisfazione. Diego, lei è uno dei protagonisti degli eventi alla rocca, di quale in particolare? Il 31 luglio saremo alla rocca malatestiana di Fano, all'interno di Comizi d'Amore, con un mio spettacolo su Massimo Troisi e Pino Daniele. Ci sarà una narrazione di Massimo attraverso un concerto delle canzoni di Pino Daniele, in particolar modo quelle che lo hanno visto legato a Massimo, e con me in scena ci saranno Antonio Carluccio, voce e chitarra, Marco Vidino, chitarra e mandolino, mandolino elettrico, e il maestro Dario Spinelli al contrabbasso, e poi avremo come special guest Elisa Ridolfi. Grazie. Grazie. Grazie.